Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV in apertura alla cronaca. Torniamo a parlare della terribile incidente stradale in A1, proseguono le indagini degli inquirenti, ma adesso c'è il racconto del primo soccorritore, si tratta di un poliziotto fuori servizio. E' stato un poliziotto della questura di Firenze, libero dal servizio, il prima di intervenire lo scorso 4 agosto sulla A1, dopo il terribile incidente che ha coinvolto un pullman di turisti cinesi finito contro il guerrail nel tratto tra Monte San Sabino e Arezzo in direzione nord. Un terribile schianto che ha tranciato in due il muso del mezzo nel quale ha perso la vita la guida turistica, un uomo di 44 anni. Giuseppe, assistente capo coordinatore della polizia, quel giorno stava rientrando in auto a Firenze con la moglie e la figlia ed è passato sulla A1 vicino a Baglialpino subito dopo l'incidente. Ha notato una nube di polvere e fumo e l'autobus è inclinato sul lato destro della carreggiata. Immediatamente è azionato le frecce d'emergenza, accostato il veicolo e si è fermato per prestare soccorso, gestendo una situazione particolarmente difficile in attesa dell'arrivo dei soccorritori. Drammatico lo scenario, chi si è trovato davanti dopo aver spento il quadro del mezzo ha soccorso un passeggero incastrato tra il garreile e i sedili, poi aiutato i vigili del fuoco e il personale del 118 a liberare un'altra donna. Anche lei è rimasta bloccata parlandola in inglese e tenendola sveglia. È così nato un soccorso a catena. I sanitari passavano il materiale del primo soccorso al poliziotto e lui a sua volta lo passava all'infermiera al fine di inserire la flebo. È rimasto vicino alla donna ferita sino a che non è stata liberata, estratta dal pulmone e immobilizzata sulla barella spinale. Il questore di Firenze, Maurizio Riemma, adesso ha ringraziato il poliziotto per essere intervenuto senza esitazione in una situazione di grande difficoltà. Un appello invece è stato lanciato dalla manifattura del Casentino ed è rivolto a Patrizio Bertelli per salvare il panno del Casentino. Noi si chiede che una tradizione che fa parte della storia del territorio retino, toscano e italiano, in Cellezza, che è il panno Casentino, che tutti conosciamo, non muoia per una mancanza di commesse. È un appello disperato quello rivolto direttamente al patron di Prada, Patrizio Bertelli, che proprio in provincia di Arezzo con numerosi investimenti ha già salvato altrettante realtà. A lanciarlo è la manifattura casentina che negli anni passati aveva già rischiato di scomparire, in quel caso però per beghe giudiziarie. Adesso il panno del Casentino, eccellenza tessile tutta italiana, rischia nuovamente di scomparire. Prodotto a stia già dal 300 è un tessuto in pura lana vergine, caratterizzato da un aspetto rustico con i tipici riccioli. Lo facciamo solo noi, quelli che scolpiscono i riccioli siamo noi. Una volta finito il sito produttivo nostro, purtroppo questo si disperderà. Il panno del Casentino sarà disperso perché le maestranze, l'acqua che viene dall'eremo di Camaldoli, del fiume Archiano, passa dalla nostra azienda. Se io trasferisco macchinari da un'altra parte, non faccio più il panno del Casentino. L'azienda attualmente da lavoro ha 13 artigiani e muove un indotto che coinvolge 100 addetti. La crisi però, attraversata dall'intero comparto, ha toccato anche il panno del Casentino che si scontra con il crollo degli ordini. Ci manca la cosa più importante, le commesse di lavoro. Le previsioni, diciamo, al momento non sono rose, si parla di 2025 per una ripresa. Il gruppo Prada invece continua a segnare un segno positivo, da qui la richiesta di salvataggio. L'azienda che Bertelli rappresenta è forse l'unica azienda del settore moda che sta facendo degli utili spaventosi. Quindi, insomma, quando si ha bisogno di aiuto, di solito ci si rivolge a chi si pensa che eventualmente possa darlo. Diciamo, morire adesso dopo tutte le vicissitudini che c'è stato sul panno Casentino sarebbe veramente un peccato. La data cerchietta di rosso nel calendario adesso è quella del 31 dicembre. Il paletto ce lo dà, ce lo dà purtroppo la situazione finanziaria che continuando di questo passo, in tutto l'anno, se non ci sono delle novità, la novità più bella sarebbe che da settembre ci fossero le commesse di lavoro. Per noi la cosa più bella sarebbe quella, però in mancanza di questo abbiamo bisogno di qualcuno che ci dà una mano. Nei primi tre mesi della 2024 cresce invece l'export a Toscano, secondo quanto emerge dal monitor dei distretti. Ottimi risultati dell'oreficeria a Retina. Nei primi tre mesi del 2024 l'export delle specializzazioni distrettuali dei poli della Toscana è stato pari a 9 miliardi di euro, registrando una crescita del 20% nettamente superiore al dato nazionale che si è attestato al 3,6%. È quanto emerge dal monitor dei distretti della Toscana elaborato dal Research Department di Intesa San Paolo. Un apporto fondamentale a questo risultato è stato fornito dal balzo registrato nelle esportazioni del distretto dell'oreficeria di Arezzo più 133% e dal polo farmaceutico Toscano più 44%. A fronte di questa crescita significativa nel settore dell'oreficeria va peggio invece per quello che riguarda il distretto della pelletteria e della calzatura di Firenze meno 23% e anche soprattutto del tessile e abbigliamento. Le esportazioni del distretto si sono ridotte di 35 milioni di euro, meno 6,3%. Sul fronte dei prodotti agroalimentari il distretto dell'olio toscano ha mostrato un andamento positivo generalizzato a tutte le province con variazioni percentuali che passano dal 54% di Lucca al più quasi 100% di Grosseto. Negli ultimi giorni si erano registrati due incendi dolosi nell'arco di poche ore nella piazzale della Repubblica davanti alla stazione ferroviaria. Ad incendiare una carrozzina era stato una clochard e sull'episodio adesso interviene il gruppo Arezzo 2020. Dipende dal tipo di sguardo che abbiamo nei confronti di queste persone o le guardiamo appunto come persone che hanno dei problemi, che hanno un vissuto, che hanno una storia che le porta ad avere difficoltà a organizzare una vita che oggi potremmo chiamare normale per intendersi, ma poi la normalità come si sa è sempre una cosa approssimativa, ma insomma diciamo a organizzare una vita normale, oppure se si guarda queste persone semplicemente come problemi che devono essere sostanzialmente eliminati in qualunque momento. Dopo il caso del senza tetto che ha dato fuoco alla sua carrozzina per protesta sul tema della gestione di casi simili o di chi vive in situazioni di difficoltà, interviene il gruppo consigliare Arezzo 2020. Lo fa raccogliendo gli svariati appelli e interventi della Fraternità Federico Bindi, struttura privata che accoglie su base volontaria chi ha bisogno di un tetto o anche semplicemente di una mano tesa. Non si può fare un click day, chi è il 31 di agosto è in regola dentro, chi è il 31 di agosto non è in regola fuori, ognuno ha i suoi tempi, la sua storia. Allora ci vuole un intervento di tipo sociale che è lungo, che è paziente, che è in qualche modo convincente. Dall'altra parte se invece si guardano come problemi da eliminare, e si fa presto, si decide che chi sta dentro sta dentro, chi sta fuori viene eliminato con un intervento di tipo poliziesco, ma non gli si elimina il problema. Le persone che vivono in condizioni di povertà, in particolare senza dimora, non è secondo molti un problema affrontato come si deve da questa amministrazione, ma semplicemente un evento isolato da trattare come tale quando disturba il normale andamento della vita cittadina o all'inizio dell'inverno, quando viene riaperto il dormitorio gestito dalla Caritas. La stessa Caritas, nell'ultimo suo rapporto, dice espressamente che il dormitorio dovrebbe essere aperto tutto l'anno. È chiaro che non è una risposta definitiva, si sono i senza dimora che non hanno un tetto, non hanno una casa, gli si offre il dormitorio. È sempre una risposta temporanea per la persona, poi vanno trovate soluzioni diverse. Quindi non è la risposta al problema della casa, ma è una risposta comunque a non essere condannati a stare esclusivamente per strada. E quindi il problema che noi sottolineiamo è la necessità che il dormitorio sia aperto tutto l'anno, perché le persone che hanno bisogno di dormire in un posto chiuso ci sono tutto l'anno, d'estate e d'inverno, molto semplicemente. Salvato da un aneurisma ad Arezzo lo scorso venerdì ed è stato operato grazie ad un intervento mini-invasivo. Operato e dimesso in appena tre giorni grazie ad una tecnica mini-invasiva, un uomo di 71 anni con un aneurisma toraco-addominale è stato sottoposto ad un intervento eseguito dall'equip del dottor Giorgio Ventoruzzo, direttore della chirurgia vascolare dell'ospedale San Donato di Arezzo, che ha impiegato questa tecnica che non prevede incisioni chirurgiche. Sono interventi che definiamo di chirurgia ortica complessa, che stiamo facendo già da un po' di tempo, ma che adesso stanno prendendo sempre più piede. Perché complessi? Perché interessano non solo la dilatazione della orta a livello addominale, per cui ci sono delle tecniche ormai standard e consolidate, ma anche quegli aneurismi che si estendono da dentro il torace fino alla orta addominale, che come possiamo vedere dall'immagine coinvolgono dei vasi nobili, cioè i vasi che le arterie che vanno ai reni e a tutto l'apparato intestinale. Quindi si devono utilizzare delle endoprotesi, che definiamo custom made, cioè fatte su misura del paziente, in base allo studio angiotac, che hanno delle ramificazioni interne, tramite le quali noi possiamo connettere le arterie viscerali e renali all'endoprotesi tramite degli stent coperti. Quindi una tecnica mini-invasiva, complessa in ogni caso, ma che se va bene, permette di far mobilizzare il paziente il giorno dopo, e come in questo caso, di poterlo dimettere anche in seconda giornata. Quindi sicuramente un passo in avanti rispetto alle tecniche semplicemente open, che venivano utilizzate fino a pochi anni fa, che richiedevano dei centri ad elevatissimo volume, pochi centri selezionati sia in Italia che internazionali. Questo ci offre l'evoluzione della tecnologia, di poter trattare questa tipologia di pazienti con degli aneurismi complessi, anche qui ad Arezzo e al San Donato, dove c'è un'equipe ben allenata e che ormai ha un'ottima esperienza in questi trattamenti. Ecco, un po' ci ha già risposto, ma come siamo arrivati a questo? Appunto, sono le nuove tecnologie, la formazione, immagino poi, del personale, che ovviamente non era comunque abituato, no, a questo tipo di possibilità? Sì, questa è stata l'evoluzione degli ultimi anni delle tecniche endovascolari, che chiaramente hanno richiesto un training continuativo sia dell'equipe medica che dell'equipe infermieristica e di tutta l'attività del blocco operatorio e che in futuro potremmo potenziare, perché è prevista una sala cosiddetta ibrida nel nuovo blocco, dove avremo un'apparecchiatura radiologica, perché tutti questi interventi si fanno sotto controllo angiografico, molto performante, che potrà espandere sia le possibilità tecniche sia aumentare la sicurezza nel trattamento dei pazienti. Parliamo adesso di menze scolastiche, nessun aumento per le famiglie aretine. Ad annunciarlo è la vice sindaco di Arezzo Lucia Tanti. Ad eccezione degli adeguamenti Istat, che riscendono da obblighi contrattuali a sé stanti, la Giunta ha deciso ancora una volta di non aumentare i costi per le famiglie per la parte variabile, cioè quella che compete direttamente delle specifiche scelte politiche. L'incremento Istata si presenta in ogni caso quasi irrisorio, oscillando da un minimo di 3 centesimi ad un massimo di 28. Ovviamente le fasce deboli sono esenti e il costo è proporzionale al reddito delle famiglie secondo il principio progressivo di equità sociale. Il servizio di riflessione scolastica ad Arezzo vede un investimento del comune di oltre 12 milioni. Ed ancora a scuola, le strutture del campus universitario del Pionta di Arezzo resteranno chiuse per la pausa estiva dal 12 al 17 agosto. Chiusura che riguarda anche le sedi dell'Università di Siena, di San Giovanni Valdarno, Siene e Grosseto. Fino all'8 settembre, poi la Biblioteca Umanistica, sede di Arezzo, non effettuerà l'apertura pomeridiana e riprenderà l'attività ordinaria a partire dal 9 settembre. Durante il periodo di chiusura, comunque continuano regolarmente online le attività di immatricolazione ai corsi universitari. Sono invece in programma tre laboratori estivi per bambini e ragazzi per acquisire nuove competenze e continuare ad imparare in un contesto ludico e ricreativo. Il progetto Training Lab è promosso dalla Penna Magica, il centro didattico dell'Istituto di Agazzi con sede in via Montefalco e si svilupperà attraverso una serie di incontri in programma tra lunedì 19 agosto e venerdì 13 settembre che permetteranno di vivere tante attività diversificate a seconda dell'età, degli interessi e dei bisogni delle famiglie. Ma per O-Lab, O-Lab e English Lab sono tre laboratori di gruppo che faranno affidamento sulla presenza di psicologhe e educatrici per un approccio personalizzato a seconda dei partecipanti. Voltiamo pagina adesso per parlare di amici a quattro zampe. Oggi è la giornata internazionale del gatto e in questa giornata arriva un appello da parte dell'assessore Giovanna Carlettini contro gli abbandoni estivi. La ricorrenza non è solo un omaggio ad uno dei familiari amici a quattro zampe che abita assieme a tantissime persone ha dichiarato ma anche l'occasione per sensibilizzare sul tema dell'abbandono. Al di là del fatto che la scelta migliore era sta quella di portarle sempre con noi le situazioni logistiche non mancano da un amico o un familiare ad una struttura che se ne occupa in nostra assenza. L'importante però è evitare di regalargli di relegarli in una triste situazione di solitudine che può portare gravi conseguenze. E ieri invece la diocesi di Arezzo Cortone Sansepolcro ha celebrato un'altra importante ricorrenza a quella del santo patrono San Donato. Sentiamo il messaggio lanciato dal vescovo di Arezzo Cortone Sansepolcro Andrea Migliavacca. È una festa per la nostra città e la diocesi condividiamo l'agurio di gioia e felicità. Così il vescovo di Arezzo Cortone Sansepolcro Andrea Migliavacca ha introdotto le celebrazioni in un duomo gremito in occasione della festa del patrono. San Donato fu il secondo vescovo della chiesa retina sarebbe morto martire secondo la tradizione il 7 agosto 362. L'omelia del vescovo è stata poi dedicata al tema della speranza. Monsignor Migliavacca parlando di molteplici problemi di questi tempi dalla crisi economica alle guerre dai femminicidi alle difficoltà nell'educazione dei figli da un lato e l'abbandono degli anziani dall'altro ed ancora il divario tra ricchezze e povertà che aumenta ha rilanciato un messaggio portato da San Donato si può sempre sperare. Esempio di speranza perché non ha spento l'ascolto ha detto Migliavacca e anzitutto l'ascolto di Dio della sua parola e della sua chiamata e poi l'ascolto del grege di cui ci parla oggi la parola fino all'appello finale Aguri terra di Arezzo terra della nostra diocesi si terra di speranza. C'è stato infine anche un saluto speciale per la presenza del parroco della chiesa ortodossa di Arezzo e per alcuni giovani di fede ortodossa ospitati a Rondine. A Castiglion Fiorentino torna il Vintage Festival all'imperdibile evento della stagione estiva castiglionese. Oltre a 100 artisti tra musicisti, ballerini e DJ sulle 6 console si alterneranno infatti 8 dista giochi provenienti da tutta Italia 90 poi gli espositori del Vintage Market. L'appuntamento è dal 14 al 18 agosto quando Castiglion Fiorentino diventerà l'ombelico del mondo per tutti gli appassionati di musica vintage, collezionismo, abbigliamento e artigianato e quest'anno ad arricchire la manifestazione sono state anche allestite due mostre a tema. E adesso parliamo di giostra della Saracino anche per la 146esima edizione torna il Clicca Giostra Day. Anche per la 146esima edizione della giostra del Saracino in programma domenica primo settembre alle 17 in Piazza Grande la vendita dei biglietti come già avvenuto sarà gestita in collaborazione con la Fondazione Arezzo in Tour all'inizio attraverso il Clic Giostra Day che consentirà di prenotare online la possibilità di acquisto dei biglietti. Il form di registrazione sarà attivato mercoledì 21 agosto dalle 15 alle 18 e si potranno prenotare al massimo 4 biglietti. Per il ritiro non saranno poi ammesse deleghe e bisognerà presentarsi con il proprio documento di identità. Una volta conclusa questa vendita dalle 9 di sabato 24 agosto sarà attivata la vendita libera presso la biglietteria del percorso espositivo i colori della giostra. La biglietteria sarà aperta tutti i giorni dalle 9 alle 19 ad esclusione di domenica 25 dalle 13 alle 19 per la concomitanza con l'estrazione delle carriere e con estensione fino alle 21 e 30 nella giornata di venerdì 30 agosto in concomitanza con la prova generale. Al via anche la prevendita per la gara vispesa d'Arezzo valevole per il primo turno di Coppa Italia di Lega Pro in programma domenica 11 agosto alle 21 allo stadio Tonino Benelli di Pesaro. I tagliandi per il settore ospite 588 in tutto possono essere acquistati online sul circuito Viva Ticket nei punti vendita autorizzati il costo è di 10 euro più spese di commissione il giorno della partita non sarà invece possibile acquistare al botteghino i biglietti per il settore ospiti Questa per stasera era l'ultima notizia vi ringrazio per l'attenzione arrivederci per l'attenzione